Benvenuto sul canale YouTube rubrica dialoghi di Claudia Marcelli che è anche collegato al canale YouTube Blue Voice Live e alla pagina gruppo Facebook alla ricerca dell'agnosi. Se vuoi ascoltare l'audiolibro del conte di Saint Germain senza interruzioni pubblicitarie puoi farlo abbonandoti al canale. L'introduzione del testo è tratta dal conte di Saint Germain di Madame Blavatsky. Buon ascolto. A lunghi intervalli di tempo sono apparsi in Europa degli uomini le cui rare doti intellettuali, la loro conversazione brillante e i misteriosi tenori di vita hanno stupito e confuso la mentalità comune. Quest'articolo, copiato da All the Year Round, si riferisce a uno di questi uomini, il conte di Saint Germain. Il curioso libro di Hargrave Gernings, The Rosicrucins, è descritto un altro uomo, un certo signor Gualdi, che una volta era il principale tema di conversazione della società veneziana. Un terzo era il personaggio storico conosciuto come Alessandro di Cagliostro, il cui nome era divenuto sinonimo di infamia in una biografia compilata da un cattolico. Ora non è il nostro intento paragonare questi tre individui l'uno con l'altro o con il comune percorso degli uomini. Riportiamo l'articolo di quest'autore contemporaneo londinese per uno scopo del tutto diverso. Vogliamo mostrare come il carattere bassamente personale è tradotto senza la minima provocazione, ma un individuo dalla mente più brillante e più versata nei segreti della legge naturale costituisce di per sé una provocazione sufficiente per mettere in moto la pena del calugnatore e un linguaggio da pettegolezzo. Il lettore segua attentamente quanto segue. Si suppone che questo famoso avventuriero, dice lo scrittore di All Day Around, riferendosi al conte di Saint Germain, sia nato in Ungheria, ma la prima parte della sua vita fu da lui stesso accuratamente avvolta nel mistero. Anche la sua persona e il suo titolo stimolarono la curiosità. La sua età era sconosciuta e il suo casato ugualmente oscuro. Possiamo ipotizzare la sua prima apparizione a Parigi un secolo e un quarto fa, ricoprendosi di fama a corte e in città. Una Parigi stupefatta vide un uomo apparentemente di mezza età, un uomo che viveva con uno stile magnifico, che era invitato a cena e non mangiava niente, che conversava continuamente con estrema abilità su tutti gli argomenti immaginabili. Il suo tono forse era molto categorico, il tono di un uomo che sa perfettamente di cosa sta parlando. Colto, parlando ammirabilmente ogni lingua civile, un grande musicista, un eccellente chimico, ricoprì il ruolo di un prodigio e lo giocò alla perfezione. Dotato di straordinaria sicurezza di sé o di consumata impudenza, non solo egli parlava magistralmente della legislazione concernente il presente, ma parlava senza esitazioni di eventi di 200 anni prima. I suoi aneddoti di avvenimenti remoti erano straordinariamente riferiti nei dettagli. Raccontava di scene alla corte di Francesco I come se le avesse viste di persona, descrivendo con precisione l'aspetto del re, imitandone la voce, i modi ed anche il linguaggio, come se fosse stato davvero un testimone oculare. Ugualmente istruiva gli astanti con piacevoli storie su Luigi XIV e li deliziava con vivide descrizione di luoghi e persone. Difficilmente, in tanti racconti, egli lasciava intendere di essere stato veramente presente agli avvenimenti accaduti, ma con il suo grande potere visualizzante avvalorava quell'impressione. Aveva completamente successo nello stupire. Si scatenavano storie su di lui. Si diceva che avesse 300 anni e che avesse prolungato la sua vita usando un famoso Elisir. Parigi impazziva per lui. Gli domandavano continuamente sul suo processo di longevità ed era meravigliosamente abile nelle sue risposte, negando il potere di ringiovanire persone vecchie, ma tranquillamente asseriva di essere in possesso del segreto di arrestare la decadenza nel corpo umano. Dichiarava che era la dieta, insieme al suo meraviglioso Elisir, il vero segreto della lunga vita e rifiutava con determinazione di mangiare qualsiasi cibo se non quello che era stato specialmente preparato per lui. Farina d'avena, semole e la carne bianca di pollo. Nelle grandi occasioni beveva un po' di vino e si metteva a sedere più tardi quando qualcuno voleva ascoltarlo, ma prendeva straordinarie precauzioni contro il freddo. Alle signore dava dei misteriosi cosmetici per conservare intatta la loro bellezza. Agli uomini parlava apertamente del suo metodo di trasmutare metalli e di un certo processo per fondare una dozzina di piccoli diamanti in una sola grande gemma. Queste sorprendenti affermazioni erano supportate dal fatto che aveva una salute apparentemente illimitata e da una collezione di gioielli di rara taglia e bellezza. Di volta in volta questo strano essere appariva in varie capitali europee sotto vari nomi, come Marchese di Monferrat, Conte Bellamare a Venezia, il Cavaliere Schöning a Pisa, il Cavaliere Hueldoan a Milano, il Conte Saltikoff a Genova, il Conte Zarogi a Zouabac e infine come Conte di Saint-Germain a Parigi. Ma dopo l'incidente avvenuto a Laia, città dei Paesi Bassi, non sembrava più ricco come prima e a volte sembrava che cercasse la sua fortuna. E qui abbiamo una piccola nota della Blavatsky, dove si afferma che il fratello Kenneth McKenzie così racconta. Quando nel 1780, durante una visita all'ambasciatore francese a Laia, egli, cioè il Conte, frantumò con un martello un superbo diamante di sua fabbricazione, la cui altra metà, anche questa prodotta da lui, aveva poco prima venduto per 5.500 Luigi d'oro ad un gioielliere. Questa nota identifica la risposta a un decadimento economico che avrebbe avuto appunto il Conte di Germain da quel momento in poi. A Tournai, altra città, egli è intervistato dal rinomato cavaliere de Saint-Gard, che lo trova abbigliato in un costume armeno ed un cappello a punta, con una lunga barba che scendeva fino alla vita ed una bacchetta d'avorio in mano. Il travestimento completo di un negromante. Saint-Germain è circondato da una moltitudine di bottiglie ed è occupato a sviluppare la confezione di cappelli su principi chimici. Poiché Saint-Gard era indisposto, il Conte si offre di curarlo gratis e di somministrargli un Elisir che sembra sia stato etere, ma l'altro rifiuta gentilmente. È lo spettacolo dei due auguri. Non essendogli permesso di agire come medico, Saint-Germain decide di ostentare il suo potere come alchimista. Prende dall'altro augure un pezzo da dodici soldi, lo mette su un carbone ardente e lavora con il cannello. Il pezzo di danaro è fuso e lo lascia raffreddare. Ora, dice Saint-Germain, riprenditi il tuo denaro, ma è oro del più puro. L'augure numero due non crede alla trasmutazione e ritiene che l'intera operazione sia un trucco, tuttavia sia propria del pezzo e alla fine lo porta al celebre Marshall Kate, allora governatore del cantone di Nuchatel. Per alcuni progetti di tinture e manifatture, Saint-Germain ritornò a San Pietroburgo, Dresda e a Milano. Una volta si trovò in difficoltà e fu arrestato in una piccola città del Piemonte per una cambiale protestata, ma tirò fuori i gioielli dal valore di centomila corone, pagò sul posto, maltrattò il governatore della città come un borseggiatore e fu rilasciato con le più rispettose scuse. È quasi certo che durante una delle sue permanenze in Russia giocò un ruolo importante nella rivoluzione che portò Caterina II sul trono. A supporto di questa tesi, il barone Gleichan cita la straordinaria attenzione tributata a Saint-Germain a Livorno nel 1770 dal conte Alexis Orloff. È un commento fatto dal principe Gregory Orloff al marchese di Anspach durante il suo soggiorno a Norimberga. Dopotutto chi era lui? Il figlio di un re portoghese o di un portoghese ebreo? O Indecchiaia raccontò la verità al suo protettore ed entusiastico ammiratore, il principe Charles de Hesitel? Secondo quanto gli disse, egli era il figlio di un principe raccozzi della Transilvania e la sua prima moglie era di Tekeli. Quando era bambino fu messo sotto la protezione dell'ultimo dei medici. Quando crebbe e venne a conoscenza che i suoi due fratelli, figli della principessa Hess Reinfels o Rothenburg, avevano ricevuto i nomi di San Carlo e Santa Elisabetta, decise di prendere il nome del loro santo fratello, Sanctus Germanus. Ma qual era la verità? una sola cosa è certa, che egli era un protégé dell'ultimo dei medici. Il principe Carlo, che sembra abbia rimpianto in tutta sincerità la sua morte avvenuta nel 1783, ci dice che egli si ammalò mentre continuava i suoi esperimenti sui colori a Eckham Ford e morì subito dopo nonostante le numerose medicine preparate dal suo farmacista. Federico il Grande, che nonostante il suo scetticismo aveva una strana fiducia negli astrologi, disse di lui questo è un uomo che non muore. Mirabu aggiunge epigrammaticamente, egli fu sempre un compagno distratto e alla fine, contrariamente ai suoi predecessori, si dimenticò di non morire. E adesso ci chiediamo, quale ombra di prova è offerta che San Germain fosse un avventuriero, il che significherebbe giocare il ruolo di un prodigio, o che cercasse di fare soldi a danno di qualche babbeo. Non c'è il minimo indizio che egli non fosse altro che quello che sembrava, cioè un gentiluomo di magnifico talento ed educazione, che possedeva vari mezzi per sostenere onestamente la sua posizione sociale. affermò di conoscere la fusione di piccoli diamanti in diamanti più grandi e di trasmutare metalli e avvalorò le sue affermazioni con il possesso di ricchezza apparentemente illimitate ed una collezione di gioielli di rara taglia bellezza. Gli avventurieri sono come lui. Forse che i charlatani ricevono la fiducia e l'ammirazione dei più abili statisti e nobili europei per lunghi anni e che nemmeno alla loro morte mostrano qualcosa di cui erano immeritevoli. Alcuni enciclopedisti dicono si suppone che egli sia stato usato come spia durante la maggior parte della sua vita alle corti in cui soggiornava, ma su quale prova si basa questa supposizione? Qualcuno ha trovato questa notizia in qualche documento di stato negli archivi segreti di entrambe queste corti? Non è stata trovata una parola. Non una frazione o brandello di verità per costruirvi sopra questa bassa calugna. È semplicemente una perfida bugia. Il trattamento che ha ricevuto da parte degli scrittori occidentali la memoria di questo grande uomo, discepolo degli ierofanti indiani ed egiziani, questo esperto nella grande saggezza segreta dell'Oriente, è un marchio d'infamia sulla natura umana. Ed è così che questo stupido mondo si è comportato con qualsiasi altra persona che, come Saint-Germain, l'ha rivisitato dopo una lunga reclusione dedicata allo studio, con i suoi archivi di saggezza esoterica accumulata, nella speranza di migliorarlo e renderlo più saggio e più felice. Dovremmo evidenziare un altro punto di vista. Il resoconto fatto non fornisce particolari sulle ultime ore del misterioso conte o del suo funerale. Non è assurdo supporre, se egli morì veramente nel tempo e nel luogo menzionati sia stato sotterrato senza una fastosa cerimonia, la presenza ufficiale, la trascrizione della polizia, tutte cose che spettano agli uomini del suo rango e della sua notorietà. Dove sono questi dati? Scomparve pubblicamente più di un secolo fa, ma nessuna memoria ne fa menzione. Un uomo che visse nel completo tripudio della notorietà non poteva essere svanito, se veramente lui morì allora e in quel posto, e non lasciò alcuna traccia dietro di sé. Inoltre, a questa prova negativa, contrapponiamo alla supposta prova positiva che egli era vivo parecchi anni dopo il 1874. Si dice che abbia avuto un importantissimo colloquio privato con l'imperatrice di Russia nel 1875 o 76 e che sia apparso alla principessa de Lombard quando lei stava davanti al tribunale pochi momenti prima che fosse colpita da un proiettile e un giovane macillaio le troncasse la testa. E a Jean de Barry, l'amante di Luigi XV, quando lei era a Parigi sul patibolo, aspettando il colpo della ghigliottina nel periodo del terrore del 1793. Un rispettabile membro della nostra società che risiede in Russia possiede qualche documento veramente importante sul conte di Saint-Germain e per la rivendicazione della memoria di uno dei personaggi più grandi dei tempi moderni è auspicabile che gli anelli necessari ma mancanti della catena della sua storia così ricca di sfaccettature possano essere divulgati nel mondo attraverso questo articolo A presto con il primo capitolo del testo L'Io sono, Io sono, vita impersonale, del conte di Saint-Germain.